Buonasera ai nostri telespettatori, un posto da assessore regionale per il sindaco di Spoleto Massimo Brunini è quanto chiedono i vertici del Partito Democratico Cittadino, una richiesta palesata dal segretario del PD Dante Andrea Rossi durante la conferenza stampa con la quale ieri è stato dato il via alla campagna di tesseramento. La giunta Brunini ha spiegato Rossi è l'unica nella storia cittadina che è riuscita a governare per due legislature consecutive ottenendo risultati importanti, per questo l'auspicio ha aggiunto Rossi e che ci sia continuità in futuro in modo che la città cresca anche riacquisendo visibilità negli organi esecutivi della regione. Sarà la nostra richiesta a Perugia, così Rossi. Non è stata però questa l'unica novità annunciata dal PD Spoletino nella città del Festival, infatti arriverà il 9 settembre Walter Beltroni che concluderà la festa che si terrà a Villa Redenta a partire dal primo del mese di settembre appunto. Ed ora passiamo a Foligno dove è polemica per la scarsità della portata del fiume Topino tra l'Arcipesca e l'amministrazione comunale. Il presidente provinciale dell'Associazione Ambientale, Andrea Garofani, ha infatti accusato il comune di Foligno di disinteressarsi del corso d'acqua. A replicare l'assessore Paolo Trenta che evidenzia invece come per salvare il Topino l'unica soluzione è l'adduzione dalla diga del chiascio. Altre opzioni, sotto linea Trenta, sono palliative con effetti limitati. Il comune di Foligno e le istituzioni locali, ha proseguito l'assessore, hanno messo in piedi l'operazione che garantirà il futuro del fiume Topino in tempi contenuti con l'adduzione dell'acqua dalla diga del chiascio per un intervento che costerà 55 milioni di euro. Queste le dichiarazioni di Trenta. Ed ora andiamo a Montefalco dove prosegue con successo l'agosto montefalchese, grande protagonista oltre alle rinomate taverne e la musica. Ogni giorno sono in programma diversi spettacoli. Stasera alle 21.30 ce ne saranno due in contemporanea, entrambi ad ingresso libero. In piazza del comune il concerto del gruppo di musica popolare etnia. Nel complesso museale di San Francesco invece l'appuntamento è con lo Spoleto Arts Symposia che presenterà lo spettacolo Broadway Musical Concert condotto dalla pianista Pamela Gilmore. E concludiamo con Monteleone di Spoleto dove sabato sera alle 21 verrà presentata la mini guida turistica Il Leone degli Appennini. Si tratta di una interessante brochure realizzata dall'Associazione dei Comuni della Valnerina in collaborazione con il comune di Monteleone e l'Associazione Archeo Ambiente. Brochure che in poco meno di 20 pagine concentra informazioni sul territorio in cui sorge la cittadina divenuta celebre per la biga etrusca. La presentazione della mini guida si terrà in piazza del mercato e sarà seguita dallo spettacolo teatrale Spazi di Nessuno. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.